Si è conclusa l'America's Cup, è stato un trionfo non solo di Luna Rossa ma di Napoli, dei napoletani, una grande dimostrazione di cuore, di passione, lo dico con orgoglio di voler donare le emozioni della nostra città al mondo, agli americani, a tutti i paesi collegati. C'è stata pioggia, il tempo non è stato certamente dei migliori, anomalo per questo periodo nella nostra città, ma centinaia di migliaia di persone hanno attraversato il lungomare liberato, Pasquetta mezzo milione, ieri con la vittoria di Luna Rossa circa 200 mila persone. Io voglio ringraziare i napoletani per la dignità e la fierezza con cui hanno affrontato questo evento e anche i disagi connessi a questo evento e soprattutto ringraziare la protezione civile, i giardinieri, la polizia municipale, il personale di Asia, gli impiegati, i funzionari, i dirigenti, i dipendenti del Comune. La squadra ha dato una prova di grande compattezza, di grande forza, di grande voglia di dimostrare come il pubblico funzioni nella nostra città. Un ringraziamento anche agli assessori che hanno lavorato a questo evento in condizioni difficilissime, con pochi soldi, con pochi giorni. Napoli, il Comune, le partecipate hanno dato una prova di grande capacità che ci fa molto ben sperare per il futuro. Quindi volevo ringraziare i napoletani e tutto il personale che ha lavorato a questo evento con grande abnegazione e grande amore per la nostra città.